Sta diventando una vera e propria emergenza quella delle aggressioni a medici e operatori sanitari, se ne è discusso a Torre Annunziata. Sentiamo Giuseppe De Caro. 90 in campagna le aggressioni ai danni di operatori sanitari nel 2019. In merito, pochi giorni fa, da Napoli, il ministro della Salute e Speranza ha detto che bisogna accelerare l'iter del provvedimento in materia in discussione alla Camera e ha fatto sapere di non escludere la possibilità di ripristinare i drappelli di polizia negli ospedali. Tagli alla spesa e in particolare al personale rendono i medici un bersaglio ha sottolineato da Torre Annunziata, partecipando ad un convegno dedicato al tema, il segretario nazionale del sindacato medici italiani Giuseppina Onotri. In Italia, ha aggiunto, secondo dati Inail, nel 2018 sono state 1.200 le aggressioni subite e denunciate dai lavoratori della sanità, quasi tre al giorno e il numero reale è più alto perché in diverse occasioni le vittime di violenza in corsia non denunciano. Nel 70% dei casi sono donne a subire le aggressioni, ha detto Mario Iovane, promotore dell'incontro torrese, che poi ha spiegato cosa c'è alla base del fenomeno. Vengono aggrediti da queste persone che secondo me non hanno la cultura ed è questo che eventualmente vogliamo discutere e portare avanti.